signore e signori ancora non c'è un governo come piace a me signore e signori ancora non c'è un governo come piace a me e se potessi nominarlo è così che vorrei farlo un ministro dei caffellate per cominciare la giornata con un sottosegretario per i biscotti e uno per la marmellata se toccasse un mattino a un solo cittadino di rimanere senza colazione via il ministro in prigione nominerei un ministro per tutti i giocattoli giocattoli per tutti per i grandi e per i piccoli un ministro per le merende merende dolci e salate da mangiare con le mani o con le posate un ministro per gli aquiloni così che nel cielo ci siano solo colori niente bombe o missiloni e al posto del ministro della guerra io ci metterei quello della pace battete mille mani battete mille mani battete mille mani battete mille mani Grazie a tutti. Grazie a tutti.